Buongiorno a tutti, ci troviamo con il Presidente Giovanni Grazioli di BCC Treviglio e in occasione della prossima Assemblea accogliamo l'occasione per apporgli alcune domande. Innanzitutto Presidente, come mai è stata convocata questa Assemblea in modo inusuale nel mese di dicembre? Buongiorno a tutti, il 9 di dicembre abbiamo convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Socii della Cassa Rurale perché si sono rese necessarie alcune delibere, in particolare nella parte ordinaria dell'Assemblea proporremo le modifiche al regolamento elettorale ed assembleare e nella parte straordinaria chiederemo invece ai soci di approvare il nuovo Statuto della Banca. Si è reso necessario adottare un nuovo Statuto per poter completare il percorso di costituzione del gruppo bancario cooperativo ed in particolare l'adesione della nostra banca al gruppo bancario Icrea. Ecco, in occasione quindi di questa Assemblea ci può dire le caratteristiche principali e i temi salienti che verranno affrontati? Il nuovo Statuto prevede l'inserimento di tre nuovi articoli, questi articoli sono quelli che si sono resi necessari per disciplinare le regole dell'appartenenza della BCC di Treviglio così come di tutte le casse rurali che aderiranno al gruppo bancario Icrea. A prescindere dai tecnicismi è chiaro che si tratta di disciplinare l'attività di controllo e coordinamento del gruppo bancario nei confronti della Cassa Rurale e si tratta quindi di definire le norme che regoleranno la nuova attività e la nuova regolamentazione a cui saremo soggetti in relazione alla legge di riforma del credito cooperativo. Ecco, guardando quindi alle conseguenze, cosa pensa che cambierà per la nostra banca? Non cambierà nulla nel senso che il contratto di coesione che discende dallo Statuto che andremo a approvare prevede una libertà d'azione ed un'autonomia progressiva in relazione allo stato di virtuosità della banca. Tutte le BCC saranno divise in sette categorie e più la categoria è virtuosa più c'è autonomia nella gestione. Noi siamo quindi confidenti di poter continuare ad esercitare nei confronti dei soci, dei clienti e del territorio la stessa attività che abbiamo svolto negli anni passati e di poterlo fare meglio in considerazione dei nuovi strumenti e delle nuove opportunità che ci saranno offerte dal nuovo gruppo. Un'ultima domanda, Presidente. L'ultima volta che abbiamo parlato con lei risale allo scorso maggio. Ci può dire cosa è cambiato in questi mesi? Abbiamo continuato a lavorare nella stessa maniera, direi anche con gli stessi risultati per cui siamo soddisfatti di come sta andando e siamo confidenti di presentarci a maggio l'anno prossimo con delle risultanze positive che credo faranno piacere a tutti i soci e a tutti i clienti della banca. In conclusione, quindi Presidente, cosa ci può dire? Sì, vorrei invitare tutti i soci a partecipare, numerosi, come sempre del resto all'Assemblea. È importante far vedere questa vicinanza alla banca in un momento così importante della sua storia. Per tutte le notizie e informazioni riguardo l'Assemblea stessa, in questi giorni saranno consegnate le lettere di avviso di convocazione, nelle quali troverete tutte le indicazioni su come e quando partecipare. Sarà un piacere anche salutare i soci, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie per fare loro gli auguri di buone feste da parte della Cassa Urai di Treviglia. Allora, la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e le facciamo i nostri migliori auguri per il futuro. Grazie a voi e aspetto tutti in Assemblea. Grazie a voi.